eccoci qua, il grande partitone di Winner Bracket, Raffaele contro Carminuccio, partitone incredibile Ike contro Ness, passiamo in game allora, vediamo subito ottimo spacing incredibile di Rusei vabbè, il ferro quello è no, poi c'è, riuscire a prendere sempre con la maniera più safe possibile le sue mosse, ecco qua, non in questo contesto, perché è riuscito a grabarlo non aveva fatto una stringa di ferro ma anche io non l'ho mai visto a giocare io ecco la presa da un air in a ferro vuole andare più sul safe, non vuole rischiare di combo che possa non entrare ah, attenta alla vivo la reverse, da me era una vivo oh, attenzione attenzione, recupera non riesce a punire il get up fase offstage, il piquetando del passidio ottimo side B ottimo side B per evitare attenzione, il tetto basso gli stupi il danone si vorrebbe evitare gli affetti si, eccolo, eccolo la corruption oh mio Dio carminuccio ma è sicuro che sta prendendo si riprende la camminuccio ignorantissimo mamma mia attenzione camminuccio non vuole sapere niente questo app si prende si prende la versione l'action incredibile colpisce ancora con la incredibile vediamo traffa già al 50 ottimo up tilt adesso c'è un 50% da recuperare ok, ora vediamo anche una percentuale non è indifferente ottimo ottimo lo spacing ottimo fare in Detroit ottimo bello lo spot carmine che si evita il oh, attenzione alla piattaforma piattaforma che causa dei tech impossibili allora bello il nair ah, perché ancora si sarà divertente carminuccio bravissimo carminuccio con questi pk thunder veramente ben piazzati back pro che però non uccide tenta a dar fastidio per pochissimo il pk fire ah, per pochissimo poteva essere punito col back air mamma mia molto teso niente niente ancora in vita troppo pesante troppo basso ma colpiamo che nesta non ha neanche neanche un po' di grigio no, non ce l'ha e che cazzo è diciamo che Rusei avrà molta fatica a recuperare se uscirà wow bella bella ha perso l'atterraggio bello proprio e quindi un game che va a carminuccio 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 vince come carattere uno non trova aspetta ok per il problema di font ha parato ok a posto spegniamo un po' secondo me oh c'è attenzione attenzione ladro in azione come ormai raffaele di la nostra community non è una per le ladrate che fa concienza mamma mia ottimi già dei danni altissimi con due semplici fair e una presa altissimi vabbè ottima strida oh tetta la ladrata troppo basso legge l'app b camminuccio ottimo ottimo becchier bellissimo rusei come riesce allora questa situazione di vantaggio c'è ecco la presa oh per pochissimo vai col fair 92 ottimo ottimo rusei sta usando un personaggio fuori dalla norma per spiazzare carminuccio cosa bella che nessuno riesce l'unico che per ora è riuscito a battere comunque vediamo il camminuccio no carminuccio non recupera scende troppo e non riesce a recuperare scende troppo perché non vado allora ecco ottimo di tilt ah becchier doggiata un altro becchier è già ricordo quasi danni ha ricordato veramente dominato questo charizard nessuno ci poteva mai credere mamma mia questa questa smash ottimo e dal fastidio rusei 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 nessuno riesce a battere rusei il pokemon master adesso incredibile nessuno ci riesce incredibile rusei ha dominato il cammincio si è trovato un personaggio per lui sconosciuto vediamo finalmente dopo che l'aveva annunciato vediamo finalmente riu 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 ci sono storie di lucas nelle quali dice che ogni volta che vick fa qualcosa di bello lo faremo anche noi non ti preoccupare ottimo time city per riu ottimo sage tetto basso eh sì ma anche per charizard non spettiamo l'ottimo per entrambi allora la sia la b che la vediamo un po ottima presa vedi il vici super armor super armor incredibile ottimo charizard mamma mia quanti danni mamma mia quanti danni raffaele riuscire raffaele camminuccio riuscire a ok riuscire a compensare alle mancanze di charizard con la tempica sì che è molto elevata con la di raffaele ottimo shoryuken no non c'è la command non c'è la command no non era command era command ah 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 carminuccio ci dice che era command e allora non ha tenuto premuto il tasso probabile non ha tenuto premuto quindi è venuta la versione bassa ah non ha stunnato non è abbastanza carico il focus ok ora vediamo charizard ottimo cerca di piazzare ottimo mamma mia a dash attack dash attack con pessima di eye uccide con tutta uuuh ecco il fake subito recupera c'è anche il tauto ha fatto il tauto raffaele attenzione c'è stato il tauto allora questo qua è il match dei grossi ignoranti eh sì no ignoranti non proprio vabbè forse riu no riu no ladri tatis ma questo questo si può chiamare il match per decidere il miglior ladro di smash 4 no ah tenta a piazzare il gap tilt ma becca male charizard ah sbaglio lo spi pulisce prende il ah questa down smash no la piattaforma gli posiziona male il focus uuuh mamma mia per pochissimo potrebbe essere grabbato ottimo carminuccio che cancella in fair il focus ah mamma mia che tensione mamma mia tanti danni per riu tanti danni per riu no il focus potrebbe essere decisivo uuuh è via la piattaforma e l'avevo detto la piattaforma e l'avevo detto la piattaforma c'è te l'are ti aiuta tantissimo e uno di 6 bellissimo bellissimo camminuccio bello 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 bravo bravo tu sei purtroppo contro il charizard c'è poco da fare vi salutiamo al prossimo match di questa terza terza terrons league ecco